ciao a tutti buongiorno allora video flash perché non sono riuscita a fare un mukbang per ieri perché poi tra l'altro non so neanche mangiando tanto la sera sto mangiando veramente veramente poco e la mia bilancia dice che non ho perso peso ma secondo me sì mi vedo più sgonfia tu mi vedi più sgonfia comunque mi sento più sgonfia allora video flashissimo per dirvi se hanno andato appena a accompagnare francesco ma l'abbiamo già portato a scuola per dirvi che se avete un s lunga controllate periodicamente la vostra mail di s lunga perché ad esempio noi ieri ci hanno regalato una confezione di mini burger quelli della granarolo e non ho lo scontro in casa spero di non averlo buttato se volete ve lo faccio vedere e mi hanno regalato una bustina per i gatti di cibo per gatti quindi praticamente 5 43 99 più 80 centesimi regalati che non è controllate sempre la vostra mail perché s lunga fa questi regali e se volete e potete mettete sempre l'accettazione per la ricezione della posta proprio per questi motivi io vi saluto vi mando un bacione grandissimo c'è un giubbotto che tre volte mai ma fa freddo quella mattina e ci vediamo il prossimo video ciao